Allora ragazzuoli, oggi parleremo di due argomenti. Il primo è una domanda che alcuni di voi mi hanno posto. In realtà questa domanda ha già una risposta e molti l'hanno capita, infatti non me l'hanno neanche fatta questa domanda, hanno compreso da soli il motivo. Mentre un'altra è una cosa che riguarda il Milan, delle interviste che sono state lasciate e delle parole importanti che sono state dette. E vi dirò la mia opinione. E ovviamente sotto dei commenti voglio sapere la vostra. Lasciate un like per sostenere il canale, mi raccomando, importantissimo. E se ancora non siete iscritti iscrivetevi al canale. Allora la domanda che mi è stata posta di più in quest'ultimo periodo, diciamo in questa stagione, e ripeto la risposta è veramente scontata, cioè non c'è bisogno che io ve la dica, però va bene, facciamoci un video e parliamone, visto che hanno anche giocato ieri. Ma perché quest'anno parli pochissimo dell'Inter? Perché quest'anno non c'è sfottone due video contro l'Inter? Perché non cerchi di ribattere a questo potere dell'Inter? Ragazzi, allora, per fare sfottò ci deve essere un motivo. Ci deve essere anche della qualità nel fare lo sfottò. Non è che lo sfottò va fatto così completamente a caso. Perché invece di fare sfottò, che sarebbe sfottò, sarebbe un po' deridere l'avversario, ti deridi da solo. Cioè fai una figura di merda da solo. Mi spiegate io come faccio quest'anno a poter soltanto pensare di andare a sfottere una squadra che è in Champions League e sta andando bene. Adesso speriamo nell'Atletico Madrid. Non ve lo nego, sarò lì a gufare l'Inter in Champions League perché ovviamente posso vederli vincere la seconda stella e vincere pure la Champions League. Cioè veramente uccidetemi, mi tolgo dai social per sempre. Quindi ovviamente sarò lì, non sono i pochi. Se dovesse vincere la Tredi con Madrid sicuramente un po' di sfottocci potrebbe essere. Però in questo momento che sfottocci vuoi fare? Tu sei uscito dalla Champions League, sei lì in Europa League, che va bene, hai passato il turno diciamo agevolmente, ma nemmeno tanto. E quindi devi starti zitto. In Coppa Italia sei stato eliminato, quindi ti devi stare zitto. La Supercoppa l'hanno vinta loro, quindi non puoi neanche fare quel briciolo di dire vabbè a meno questo trofeno, niente, hanno vinto pure quello. In campionato sono a più sedici, ti hanno distrutto nel derby e io il terrore del prossimo derby di solito sono felice quando si avvicinano i derby, invece comunque si avvicinano i derby ormai da quando ci sta Pioni negli ultimi anni mi è venuto il mal di derby perché non li sappiamo mai affrontare alla pari. Siamo sempre lì con una tattica sbagliata, con una strategia sbagliata. Quindi derby strapersi, sedici punti in campionato, Champions League lasciamo perdere, Coppa Italia lasciamo perdere. Cioè mi spiegate con quale dignità di essere umano io posso mettermi lì a dire eh ma lì sì ok va bene magari quest'anno avrà avuto qualche aiutino in più ma chi nega lo strapotere di questa squadra ragazzi è follia, è follia. Ed è una roba che io non voglio fare come molti hanno fatto quando hanno cercato di screditare lo scudetto del Milan che magari non sarà stato uno scudetto così dominato ma non era proprio la squadra favorita per vincere lo scudetto. E diciamo che hanno fatto un po' un'impresa sportiva, hanno cercato di sminuirla. Lì erano loro i ridicoli, erano loro i clown come l'anno scorso che ha cercato di sminuire lo scudetto del Napoli perché ieri l'anno scorso il Napoli ha stravinto lo scudetto strameritandolo e nessuno può dire il contrario. Ecco quest'anno sta succedendo la stessa cosa identica con l'Inter però si cerca di sminuire il fatto del eh vabbè ma siete aiutati, eh vabbè ma la marotta League. Onestamente ragazzi in che si scherza con l'amico su sta cosa qua perché non si vogliono dare dei meriti all'Inter lo posso anche capire però se mi devo mettere qua sul web davanti a 20.000 persone che guarderanno il suo video onestamente dire ah ma l'Inter sta vincendo lo scudetto perché è aiutato eh altrimenti gli avversari, a parte che gli avversari sono a merda cioè chiariamoci l'Inter stravince lo scudetto uno per meriti suoi perché le sta vincendo tutte ed è stradominante ma non dico che c'era qualche squadra che poteva vincere lo scudetto al posto dell'Inter però si poteva dare un po' più di fastidio, gli avversari sono veramente mediocre Juventus, Milan hanno dimostrato di essere veramente squadre mediocre quest'anno che poi uno va a vedere però ha gli stessi punti di quando è vinto lo scudetto campionati mediocre, è inutile cercare di cambiare la cosa quindi cercare di addolcire un po' la pillola ai tifosi tipo eh però Pioli non sta facendo così male alla fine c'ha i punti, c'ha le vittorie consecutive c'ha 6 a 16 punti dalla tua diretta concorrente e non è che stiamo parlando del Manchester City che dice oh guarda l'Inter sono arrivati gli sceicchi hanno comprato miliardi su miliardi di giocatori tipo il PSG in Francia hanno ammazzato il campionato no, stiamo parlando di una squadra che è stata costruita con i debiti va benissimo ma è stata costruita è stata costruita con i parametri zero gente scartata dalle altre parti Acerbi, Mkhitaryan, Darmian giocatori che se te li proponevano qualche anno fa al Milan avresti detto no ma è sia ma che schifo io mi ricordo che se state gente diceva no Turam che è una merda non fa gol, non segna e alla fine quelli dell'Inter sono dei geni hanno scoperto tutti questi giocatori oppure sono bravi loro a rendere Acerbi un buon difensore Darmian un buon difensore Mkhitaryan un ottimo trequartista gente ormai alla fine della carriera scartati saranno stati bravi quindi ragazzi onestamente a me non va di fare un video alla settimana in cui devo fare i complimenti all'Inter non mi interessa proprio sto cercando di distaccarmi il più possibile da questo campionato io questa stagione la odio se non per l'Europa League io ho perso completo interesse in tutto infatti mi sono arrabbiato con la partita con l'Atalanta ma è un ventesimo di quello che avete visto voi su Youtube di solito quando io mi arrabbio perché sì mi sono incazzato, abbiamo giocato bene ci hanno derubato una partita perché quello l'anno non è mai rigore ma alla fine sti gran cazzi non è che quei due punti mi avrebbero cambiato la vita quindi quest'anno non riesco proprio a viverle quelle partite in Europa League sicuramente le vivo con più suspense con più trasporto perché c'è qualcosa da poter giocare io ragazzi ve l'ho sempre detto a me secondo, terzo non me ne frega niente ci fosse stata l'Inter secondo con la Juve prima magari scavalcare l'Inter mi poteva anche dare l'1% di piacere ma onestamente giocare in secondo posto con la Juve non me ne frega niente quindi non posso venire qua ogni settimana a dire eh l'Inter ha stradominato, ha fatto 4 gol a Lecce con il turnover cioè, avete visto il turnover dell'Inter? l'avete visto? eh quello lo può fare il turnover perché lo possono fare hanno i giocatori adatti per farlo hanno la mentalità giusta per farlo entrano quelli della panchina e vogliono dimostrare di essere all'altezza di quelli dei titolari noi entrano quelli della panchina e confermano il fatto perché stanno in panchina cioè non ti tolgono ogni dubbio se tu c'è il dubbio che forse Cucuese potrebbe giocare una partita titolare al posto di Pulis Cucuese te la toglie quel dubbio e il nostro turnover serve a quello a toglierti ogni minimo dubbio se Jovic c'ha la chance di giocare i titolari si fa espellere come un minchia perché reagisce cioè ti tolgono qualsiasi tipo di dubbio con i titolari quindi il nostro turnover è quello è ammazzare la panchina mentre gli altri fanno 4 gol a quello 4 gol all'Atalanta io l'ho vista non tutta non stavo molto attento però l'ho seguita ieri Inter-Atalanta e ragazzi qua si parla di furto di truffo e di cose io onestamente ho visto gli episodi arbitrali sì c'è qualcosa di dubbioso ma l'Inter ieri l'ha asfaltata l'Atalanta cioè li hanno distrutti lasciate il fatto che Carnesecchi tre giorni prima sembrava Gigi Buffon e poi sembrava un rincoglionito vabbè queste sono cose mie pensieri che mi faccio io e va bene però comunque l'Inter nessuno potrà dire l'Inter ha vinto perché ha rubato la partita quindi ragazzi mi sembra anche inutile quest'anno metterci lì a controbattere contro l'Inter basta si fa finta di nulla ovviamente una volta ogni tanto sì si può dire l'Inter sta dominando perché me lo chiedete sembra quasi che io mi caghi sotto a parlare dell'Inter no non mi spavento a parlare dell'Inter dico che stanno dominando che stanno meritando di stravincere questa seconda stella mi fa rodere il culo tantissimo e sono incazzatissimo uno perché il nostro campionato è finito praticamente a novembre e due perché lo stanno vincendo loro perché onestamente vi dico la verità a un certo punto sapevo che la Juventus non sarebbe mai potuta stare allo stesso livello dell'Inter però se dovevo scegliere una avrei preferito veder vincere la Juve che l'Inter perché con l'Inter sento proprio una rivalità molto accesa però poi da qua essere ridicolo a dire no ma stanno vincendo per gli aiuti ma stanno vincendo stanno vincendo basta stanno a fare quattro gol a tutti non prendono manco più gol cioè sono devastanti e ripeto non hanno speso miliardi cioè questi rinnovi manco si parla Lautaro rinnoverà quello rinnoverà quello rinnoverà quando invece poi passiamo all'altra sponda che è la sponda Milan questa settimana tu cerchi le notizie sul Milan e ti escono due articoli uno sotto non sto scherzando uno sopra uno sotto cioè attaccati attaccati il primo è l'intervista di Leao Leao ha presentato il suo libro anche scrittore professorone va bene ha fatto il suo libro in cui poi ha parlato ovviamente del Milan e lui ha detto che vabbè tralasciando il fatto che io non credo a mezza parola di quella che dice Leao ormai sono fatto così sono diventato con un cuore di pietra non credo più a nessun calciatore sono diventato veramente due o tre calciatori mi fanno un po' battere il cuoricino ma per il resto mi fanno tutti schifo e non credo a mezza parola di quello che dicono spero che facciano bene con il Milan ma non credo a nulla quindi ho rinnovato per amore non per i soldi quando tutto si basava sul fatto se gli pagavano la multa che c'aveva lì allo sport in Lisbona era tutta una roba di soldi però poi lui è rinnovato per amore però se ci sono dei minchioni che gli piace farsi prendere per il culo dai calciatori continuate a farlo io non sono nessuno per dirvi di no però è una puttanata quella che ha detto Leao non ha rinnovato per amore ha rinnovato palesemente per farsi pagare la multa e per rinnovare il suo ingaggio a 7 milioni di euro che adesso chiederà di nuovo di essere rinnovato mo che Leao va a chiedere rinnovo e chiederà più soldi qualcuno vada sotto casa di citofoni e gli dica ma scusi ma lei non era quello dell'amore quindi puttanate su puttanate ok va bene però e dice segnali d'amore verso il milan voglio rimanere al milan dove ti vedi nel futuro milan senza pensarci senza dubitare milan milan quando potresti tranquillamente essere un po' vago nelle risposte no tu dici milan milan questo poi per collegarci a quando Leao andrà via e lo prenderò insulti perché poi la gente mi dice vabbè ma donna Roma può scegliere di dove andare no non puoi scegliere dove andare se baci la maglia e giuri amore alla squadra non puoi più scegliere perdi la possibilità di scegliere se tu giuri amore e prendi per il culo i tifosi torno dalle olimpiadi da do cazzo era e risolvo tutto e firmo il contratto e poi te ne vai a zero io ti dico Frank e si sei un pezzo di merda e ho il diritto di dirtelo perché hai preso per il culo le persone quindi la prossima volta che succederà una roba del genere io mi ricordo questa intervista la metto pure come video a slow motion quando le ha giura amore al Milan dove ti vedi al Milan ok poi le cose vabbè uno può dire possono cambiare allora stai zitto se sai che possono cambiare se sei certo che non c'è questo 100% di rimanere al Milan perché non è vero non ti crede nessuno non ti crede nessuno allora stai zitto rimani sul vago ma comunque la notizia le ha giura amore eterno al Milan la notizia sotto non dopo una settimana non dopo 5 giorni dopo due giorni la notizia sotto nello stesso giorno in cui portano le ha giura amore eterno al Milan sotto l'articolo dopo il Milan ha fissato il prezzo di le ha 120 milioni può partire allora ho capito che va bene devono scrivere i giornali per per vendere per fare numeri tutto quello che volete voi ma veramente ci avete preso proprio per dei coglioni cioè uno non gli credo a le ha perché sto amore eterno è una stronzata ma puoi leggere sotto all'articolo in cui dice le ha ha giurato amore eterno sotto il Milan ha fissato il prezzo cioè ma seriamente ma seriamente cioè capite che sono delle prese per il culo disumane poi per quanto mi riguarda le ha non resterà per sempre a Milan le ha alla prima occasione giusta alla prima offerta giusta andrà via in questo momento ha rinnovato perché gli hanno dato praticamente tutto quello che voleva e fidatevi gli hanno pagato la multa lì allo Sporting Lisbon e quindi lui ha deciso in questo momento della carriera di crescere con il Milan non nego neanche che lui ci tenga un po' al Milan anche se poi non lo dimostra in campo perché poi anche sta sta narrazione che stanno facendo adesso del Leao fenomeno della stagione devastante di Leao 4 gol in campionato ma quale stagione devastante ma andate a cagare ma cioè la stagione devastante la sta facendo Lautaro Martinez non la sta facendo Leao quindi anche sta roba che cercano di far passare come ah criticato Leao sei un pazzo non capisci niente di calcio allora io ho sempre criticato quelli che dicono ah questo è scarso cioè dire a scarsa a Leao sei stupido non ha senso però parlare dell'impegno di Leao in campo e se qualcuno mi dice che Leao ha il massimo impegno nel Milan cioè veramente metti il braccio così che ti manda a fare in culo perché davvero non puoi parlare di impegno di Leao viscerale nelle interviste che lascia per il Milan e io non ce lo vedo poi in campo quindi io sono convinto che gente come Leao gente come Teo Hernandez alla prima grande offerta andranno via è andato via Tonali potranno andare via anche i vari Teo e Leao quindi non credo a mezza parola di quello che dicono nelle interviste però credo che anche la stampa sia ridicola nel mettere Leao giuramore eterno fissato il prezzo per cedere Leao questo è quello che volevo dire oggi sono molto curioso di sapere la vostra sia sull'Inter e sapere perché la maggior parte della gente che mi segue è milanista quindi chiedo a voi milanisti cosa ne pensate dei milanisti che cercano di sminuire forse per sentirsi meglio per sentirsi più appagati la vittoria dell'Inter di questo scudetto perché ormai l'hanno vinto io onestamente non mi sento di sminuire nulla l'hanno vinto l'hanno stravinto l'hanno strameritato quindi sono molto curioso di sapere e poi se davvero credete alle parole di Leao se siete magari sono io che sbaglio magari c'è qualcuno che si emoziona a sentire Leao che giura amore eterno al milan magari sono io che sono diventato così negli anni mi sono peggiorato può essere sono molto curioso di sapere tanti commenti qua sotto sempre forza mila bella